Varata ufficialmente l'estate tolentinate edizione 2019, come sempre tantissimi eventi per tutti i gusti. Un'estate particolarmente ricca, si apre adesso in questo fine settimana e si concluderà in teoria a settembre, ma in realtà a settembre noi facciamo una pausa forse di una settimana per poi immergerci di nuovo a pieno in un grande appuntamento che è quello della mostra delle Lego che il 17 ottobre aprirà finalmente i battenti. Chiaramente l'evento di punta e di apertura di tutta la stagione è come sempre la Notte Bianca, una Notte Bianca in grande stile, la Notte del Mattoncino, non a caso abbiamo deciso di chiamarla, una Notte Bianca nella quale ci siamo divertiti ad ingaggiare artisti locali chiaramente e assolutamente, ma abbiamo un po' curiosato in quello che il panorama televisivo dell'ultima stagione invernale ci offriva per vedere se potevamo aggiungere un quid in più a quello che ormai è un evento rodato. Abbiamo quindi il piacere di annunciare alla città che avremo Nicola Virdis in conclusione di serata in piazza San Nicola, avremo le principesse di Colorado, avremo Voci Sole in concerto, avremo Marco Ligabue, avremo una banda itinerante che attraverserà tutte le vie del centro, poi a partire dalla Notte Bianca, in collaborazione anche con le varie associazioni culturali della città, una grande mano come sempre ce la dà la Proloquo, il nostro braccio armato in tantissime situazioni, quest'anno immediatamente dopo la Notte Bianca finalmente ci propone in centro storico Cristina D'Avena, un artista al quale pensiamo da tanti anni, riproponendo il canta piccolo di diversi anni fa in città, coinvolgendo i cantanti di allora e i cantanti piccoli di quest'anno, porteranno in centro storico quell'evento che ha spopolato negli anni 70-80 a Tolentino, unitamente ad un artista che ricordiamo tutti. Per l'occasione la Proloquo organizzerà anche la Notte Bianca dei Bambini. Silvia Totò, assessore alla cultura e all'istruzione del Comune di Tolentino, un'estate tolentinate estremamente variegate ma anche con molte nuove idee. Abbiamo il picnic a cui si abbina anche il Circo Takimiri, il degrado post-mezzadrile che ci sarà alla fine di luglio, il 31 luglio, il mercoledì del commercio che sono dei momenti molto conviviali che partono con l'aperitivo per poi permettere ai nostri concittadini di vivere il centro storico attraverso diversi eventi. Ci saranno gli spiritusi, ci saranno dei laboratori per i bambini su Viale della Pace, diversi concerti dedicati a Lucio Dalla, a De Andrè, il cinema sotto le stelle, sempre durante i mercoledì del commercio avremo le gare di scacchi, avremo i DJ anche alla Piazza Togliatti, una serata dedicata completamente alla musica con i DJ. Per poi passare alla fine a settembre con diverse altre opportunità e poi, cosa a cui tengo tantissimo, al Mi Humor, che inizierà nel mese di novembre. È vero che siamo già non più nell'estate tolentinate, ma passiamo a tanti altri eventi che ci accompagneranno insieme, ovviamente, al cartellone teatrale durante l'inverno, l'autunno e l'inverno. Quindi un cartellone pieno, come diceva la mia collega, da adesso fino a gennaio non ci fermeremo mai e ci saranno tantissimi eventi per tutti. Ci tengo a precisare per tutti perché partiamo dai più piccoli con il cantapiccolo per passare al mood per i ragazzi un po' più adulti e per finire con il liscio e il premio Ravera. Grazie. Grazie.